Io sono Chanel. E voi chi siete? I ragazzi Rovica? No. I ragazzi della piazza? No. I ragazzi italiani? No. E allora chi cazzo siete? Io sono Chanel. Perché vado a dormire con due cucce di stravergine. Ma a me mi chiamano Chanel, sai perché? Perché ne capisca i profumi. E voi due, già puzzate. Ma già puzzate di che, scusi? Iaio! Io invece uso solo la cipolla. E sapete perché? Perché? Perché vi faccio chiangere. Vediamo un oggetto davanti a lei, un po' strano in cucina. Ma qual'è questo? Questo è il re della cucina. Ti stiamo mattarello. Guardate quanto è bello. Io con questo stand frulli e sbatto. E all'occorrenza? E all'occorrenza che? Ci canta la canzone! Ma non sai il testo tra l'altro. Sto trovando la tonalità, non capisci? Ah, vabbè. Ti canta una canzone? No, grazie.